Beh, certamente è una responsabilità perché quello che lui ha fatto al club è stato assolutamente fantastico e lui è decisamente una leggenda, un mito e quindi semplicemente guardando tutto quello che ha fatto, tutte le sue giocate, quello che ha fatto per il club è sicuramente stato grandioso. Io quindi posso semplicemente essere ispirato da lui e avrò ispirazione da tutti gli altri giocatori, tutti i miei compagni di squadra, quindi spero di poter appunto fare del mio meglio, lavorerò duramente e sicuramente è una grande sfida, però come ho detto prima sono pronto per questa sfida. Direi Quadrado perché ha delle caratteristiche molto simili a me proprio per il modo e la posizione dove gioco, quindi decisamente trarò ispirazione dalle sue giocate, voglio vedere, analizzare bene i suoi movimenti e imparare da loro perché sono ancora un difensore molto giovane, quindi ho ancora molto da imparare e c'è sicuramente molto margine di miglioramenti e quindi spero che appunto l'allenatore mi aiuterà giorno per giorno e quindi sarò lieto ovviamente di mettermi a disposizione.